Anziani, attenzione! Se vi dovesse telefonare al numero di casa un sedicente poliziotto o poliziotta chiedendovi del denaro, mettete giù e chiamate subito il 113. Nei giorni scorsi la questura di Padova ha ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Il raggiro consiste nella richiesta fatta al numero fisso di casa di consegnare del denaro necessario a liberare il figlio arrestato dopo aver causato un incidente stradale grave. Più di una decina le chiamate giunte agli operatori della questura in soli tre giorni da parte di anziani residenti in diverse zone di Padova. Se qualcuno resta vittima di una truffa o anche solo di un tentativo deve rivolgersi alle forze di polizia segnalando l'accaduto. Chiamare subito il 113 appena dopo aver ricevuto una telefonata sospetta, consiglia la questura di Padova, permette un rapido intervento della volante e l'eventuale identificazione di persone sospette. Nessun agente di polizia verrà mai a chiedere denaro a domicilio né tantomeno lo farà al telefono. Non lasciatevi ingannare da false divise e falsi distintivi.